Buona giornata. Il gesto di oggi che ci accompagna di questa questa novena è proprio quello di non sprecare, non buttare via la roba. Perché? Perché è un gesto che non dice generosità ma non dice neanche l'opportunità che attraverso le cose tu hai la possibilità di dimostrare la tua maniera di voler bene. Molto spesso semplifichiamo, anzi è più facile buttare certamente o anche sprecare. Chi lo sa se possiamo avere una intelligenza più accorta nel modo con cui utilizzare, riutilizzare, condividere o indirizzare ciò che abbiamo con altri. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata. Grazie a tutti.